Benvenuti, siamo i GRANZ Siamo tornati qui con un nuovo episodio Niente, con un nuovo video Siamo qui con un nuovo video Oggi siamo su Instagram Non per fare tipo il nostro Instagram Ma per fare le cose in cui ci avete taggato voi Cucu's clan Cucu's clan Ok, va bene Siamo qui per vedere le cose in cui ci avete taggato voi Soprattutto i meme oppure tipo Bella quella gramba comunque Ti piace? Si, fantastico Tipo le cose in cui Le cose vostre tipo che ne so Tutte i vostri fan art e cazzi vari Meme e cazzi Pari Esatto, quindi andiamo a vedere tipo le più carine Noi che amiamo i GRANZ Ti va un po' di chefs? Queste cose brutte Perché c'è il pensiero che lui mi dica una cosa del genere Ma guarda la faccia mia Si, lo so, infatti sto Mamma mia, brutto dovrà essere un faccio davvero Che magari quando lo fai manco ti rendi conto Ho capito? Poi le cose personalizzate di me la godo Finissimo Perché li taggano su Frax? Su Frax Ah Gab, Fraxers e Fabi dei tag? Hanno taggato tutti, tutti quelli di me la godo praticamente A me no E te non sai Ma come si dice Quella nel video degli Agro's Bar Challenge di fan Ma come si dice con i piedi? Grazie al cazzo E poi la finezza Si perchè sotto non poteva togliere ovviamente Questa qua Ieri ho visto due husky, uno era bellissimo L'altro una schifizia Mi sono togliato troppo Cioè le cose che non fanno ridere però fanno ridere proprio perchè non fanno ridere Si Inception Tutti che comprano si baci per ucina E io devo ancora capire chi è sta ucina Ma perchè ste cose raga? Ma come cazzo ci pensate più che altro? Ma la storia di Adamo e Deva? E' stato il primo meno dramma Non ce voglio crede Scusatemi la non t'ha scuso Io senza barba 380 like poi Capito? Quando c'è sciopero e tutti i professori non vengono a scuola tranne il tuo Esatto e tutti mi dicono no ma vaffanculo ma che sta faccio So stronzo Qua sta poffa so stronzo Guarda Gabbo Ma porca puttana Shanta madonna Questo non ha senso Perchè piangi Frax? Mi hanno tolto la mortata Vabbè Cioè non fanno ridere però fanno ridere non so perchè Vabbè Cosa fa un pesce quando muore? Mamma mia E' uscita Mamma mia Mamma mia regà Ma che hai fatto? Oh mio dio Che poi questa l'hai condivisa te? Eh si l'ho condivisa infatti c'è il mio instagram Darryl 11 Perchè mai l'hai condiviso la cosa di lui? Perchè mai non lo so Voglio ricondividere questa qua adesso Della schifezza Della schifezza È troppo bella Ragazzi tipo avete tipo dei meme da fare Seguiteci su instagram e taggateci senza problemi Yes Mo tipo balanghe dei meme Si si Allora dove siamo arrivati? La relay in forma è troppo figo Si Si Sono fatti benissimi 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 Sono stato attaccato Qui Ma perchè? Anche Ma da assomiglia un po' eh? Vaffanculo ma da assomiglia più a te cammini È un baffetto È un po' più tera È un po' così Eh vabbè Lui quando si incazza che fa? Vedano uno sciovole Ah sei la battuta triste che ha fatto Quando un tuo amico Il telecomando dietro non manca mai, perché io la serie la uso come comodino, raga Quando vedi un bel culo E' vero, però, è quella la faccia Questa, The King Mamma mia Tag life, proprio Coroncina, occhiare di diamante, mi sta bene Ma che è? Ma che t'hanno fatto? No, vi prego, cioè, non fate Pure l'occhio azzurri Oh, raga, era donna Cioè, senza barba, era una donna E' una donna barbuta, sono pronto per il cibo Eh, ma vedi tutti i rin Non so perché, ma vabbè, fanno dagli hashtag Sì, no, più che altro, questa foto ce l'hanno tutti Tutti che vedete, ma non c'è una cosa questa Ma lo dite, per favore Guarda, guarda, raga, sono solo queste foto Guarda Ma che cazzo Oddio, non me la ricordavo questa E' troppo bella E questa Oddio, raga, fate i meme su sta foto, vi prego Ovviamente arrivano quelli col cazzo, sicuro Eh, sei fuori Oh, no, ma quello, no Pure vede, c'ha un po' le api Motorboard Aspettative, in realtà Questo, perché? Sì, ma perché il cerotto così? Ma guarda, capito, me pende il cerotto Perché il testo, tre Ma no, è tipo indiani, capito? Non c'è sta a Matteo, c'è il taglio, perché? Non c'è sta a Matteo Non c'è sta a Matteo Il mio cazzo è a lungo fino a qui Cazzo Ma inchiava L'amore infinito di un padre verso il proprio figlio Qui sarò il padre, quindi? Eh, perché, sai, figlio Diciamo È un figlio Disabile Disabile Molto speciale, Dredd Dari, il mio numero preferito è il 7, perché? Perché se te devi dar cazzo Questa è la più bella Dredd, il penzinaro di Roma Ce lo vedo Volevo fare lo youtuber Questo è il tutto È la toglia del tutto Ma perché io un tago si imbocca un kebab? Ti ho detto, questo Frax è il cetriolo Questo è tutto Io invece spunto da nulla, capito? Cioè, sarei qui quel pupazzo di neve sarei Però Pupazzo di neve Però è il tutto Perché c'è Frax con cetriolo Cioè, cose senza senso Laila che tiene un ananas Ragazzi, allora, prima di chiudere il video Però vi devo far vedere la perla Della vita Sì È questa Ora voi vi chiedrete Perché sto andando sul profilo Di Deluxe Perché c'è un motivo in tutto questo Perché dovete capire che Questo Games Week È successa una cosa Che Fa molto ridere Perché Un fan di Deluxe O mio Non si sa Ha fatto la foto con Deluxe Una bellissima foto con Deluxe Dove Deluxe è venuto benissimo Questi sono Questi come vedete, no? Questo è il profilo di Deluxe Taggano Foto di Official Deluxe C'è questa foto Ah, Games Week 2015 Con Deluxe Aspetta Ha il Game Seek Sì 2015 con Deluxe E Official Deluxe ovviamente Ci sta perché Cioè, sottolineiamo Deluxe alla fine E Ovviamente Io commento Che grande Deluxe E Deluxe risponde Darryl Professional Cosplayer Questo ho tagliato Vabbè No, però la cosa è bella Perché Molti YouTuber Raccontavano sta cosa Che sia stati scambiati Per altri YouTuber E venivano taggati Ma a me non mi era mai successa Sta cosa Quindi Dalla parte Sono contento Perché Almeno l'ho provata anch'io Questa cosa Perché è figa Te tagli È divertente Tipo a te Ogni tanto Ti scambieranno Qualcuno No No Fateci i meme Su questo Niente Allora Ragazzi Se questo video è piaciuto Lasciamo 5.000 like E Magari ci darà pure l'episodio suo Proprio delle cose Che taggano lui E Seguiteci su Instagram E Se avete dei meme In cui taggarci Ma non proprio meme Soltanto scritte Ma anche montaggi Fotomontaggi Cazzi vari Fanart Taggateci su Instagram E noi li vedremo sicuramente Perché tanto Le vediamo tutte Poi le più belle Le repubblichiamo Perciò ragazzi Prossimo video Noi ci becchiamo Bella Ciao